Ennesimo scippo della giunta Marsilio al territorio pescarese. Infatti la strada Loreto Penne, finanziata nel masterplan per un totale di 7 milioni di euro, nella scorsa giunta ad Alfonso, ad oggi si trova con zero fondi e con molta probabilità l'arteria che dovrebbe diminuire la distanza di percorrenza dei piccoli centri al capoluogo adriatico resterà un'utopia per il popolo vestino. La nuova giunta regionale, denunciano i rappresentanti del PD regionali e locali con tre delibere di giunta, hanno svuotato le tasche del masterplan per finanziare gli asfalti riguardanti le tappe abruzzesi del Giro d'Italia 2019 e l'ultimo dei tre ponti sul Saline. Io quando mi insediai da presidente della provincia nel 2014 il primo atto che feci fu di dire a ANAS che quella era un'opera prioritaria per la provincia di Pescara. Da lì in poi anche con la programmazione masterplan ho richiesto al presidente D'Alfonso di continuare a investire risorse per come ce lo chiedeva ANAS per fare sì che l'opera fosse definitivamente realizzata. E' qualcosa di spiacevole a prendere oggi questo scippo non autorizzato dai territori dell'area vestina perché la verità è questa e gli enti locali devono far sentire le loro attenzioni rispetto alla priorità assoluta della Maremonti. Ma io la conosco perché ci ho lavorato per trovare le risorse, attivare le idonee progettazioni, raccogliere i pareri. Sono stato anche giuridicizzato dall'autorità penale, adesso mi trovo nella comoda condizione di essere parte lesa e andrò fino in fondo nel senso che sarò implacabile fino all'ultimo millimetro. Adesso si tratta di appaltare 37 milioni di euro più 6 milioni di euro nella direttrice Pescara, Farindola, Castelli, Castel del Monte. Abbiamo un primo tratto per 37 milioni di euro che deve essere oggetto di cantiere. Io mi auguro che mai più la regione Abruzzo prenda le risorse di questo paniere per la Loreto Penne neanche se dovessero servire per comprare i pettini d'argento per le vergini di Santa Rosalia. Tenete da conto che per garantire questo lavoro, quelle risorse, abbiamo assicurato un rango giuridico alla strada, rango di strada statale, in una fase nella quale quella strada doveva essere regionalizzata e provincializzata. E siamo di nuovo davanti a questo rischio perché con le autonomie differenziate o autonomie regionali potenziate, quelle strade potrebbero tornare pazzescamente alla provincia di Pescara. Grazie 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 Grazie